Ciao a tutti e benvenuti sono le Ferri e oggi finalmente unboxiamo la Yakuza Remastered Collection eccolo qua il cofanetto della versione Day One da non confondere con la versione liscia che non contiene la custodia di Yakuza 5 detto ciò questo qua è il fronte molto molto bello come design vabbè il cofanetto visto di lato l'altro lato quindi potete vedere che è un cofanetto doppio slot quindi bello cicciotto tra virgolette e questo il retro con la descrizione in italiano spagnolo e inglese e vediamo un attimo anche le informazioni del gioco se mette a fuoco eccolo qua uno due giocatori come uno due giocatori 67 giga output 1080p 60 fps per ps4 e su ps4 però onestamente non mi ricordo voce in giapponese e in inglese eventualmente no non è vero voce in giapponese e test in inglese ho detto una castroneria e dopodiché vediamo un attimo il contenuto allora qui troviamo la custodia di Yakuza 5 che in versione fisica non è mai arrivata in occidente ecco perché ci hanno appunto detto la custodia per bellezza questo qui è l'artwork di Yakuza 5 che immagino sia ispirata a quella asiatica il profilo e il retro molto molto semplice all'interno non troviamo nulla ho già guardato eccolo qua un amarei come le chiamano loro semplice e vuoto però molto molto carino come gadget insomma ecco se volete metterci dentro qualcosa che non sia il disco di Yakuza dato che non c'è detto ciò l'altra parte del cofanetto quella più importante ovviamente è lo slipcase di cartone che contiene appunto adesso vi faccio vedere questo qua è il front innanzitutto questo qua è il retro con il simbolo di Ryuga Gotoku Studios all'interno troviamo la descrizione in giapponese di non so cosa onestamente comunque scelta loro dopodiché all'interno troviamo ovviamente i due dischi eccoli qua che per l'esattezza sono un disco singolo per Yakuza 5 e un disco unico per Yakuza 3 e Yakuza 4 evidentemente perché occupano un po' meno spazio immagino ma non ne sono sicuro dopodiché cosa troviamo allora fatemi guardare un attimo gli adesivi allora intanto vi faccio vedere anche l'artwork dello slipcase perché è bellissimo allora i dischi li avete già visti ok togliamoli eccolo qua questi qua sono i due artwork dietro i dischi che sono stupendi molto molto belli eccoli qua perfetto sì ecco e dopodiché oltre alle cose che vi ho già fatto vedere ci sono per l'appunto gli adesivi dello studio quindi Ryuga Gotoku Studio e la parte retro vabbè che c'è scritto semplicemente non è un giocattolo state attenti eccetera eccetera e il libricino tra virgolette per le istruzioni che in realtà non è vero perché in realtà sono solo avvisi per la salute diciamo eccolo qua niente di più niente di meno detto ciò spero che vi sia piaciuto il video fatemi sapere cosa ne pensate preparatevi per i gameplay di Yakuza che oggi vi faccio vedere il 5 come gira su PS4 grazie e alla prossima grazie a tutti